Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie L'ho letto io, basta L'ho letto io, basta L'ho fatto una domanda io Corto e spesso Io non ho veramente parole, aspetta che accendo il ventilatore qua Si fa caldo Beh Auguri Auguri figlio di puttana Te li faccio anch'io Auguri No scherzo No Un bel rapporto Hai più rispetto per la pagina Instagram Ross is my life Si Ok Che cosa vuol dire quello che hai letto su TikTok Non ho capito E il mio pensiero su TikTok? Eh cioè? Che la trovo una piattaforma un po' vuota Stai bene? Sono uscita raccapricciante E mi sa che adesso vado a casa Ti voglio benissimo amici Io sono Guarda Che bello Che bello Che bello Io ho fatto trombare il Don No Non si può dire Non si può dire Vabbè un aneddoto Vabbè un bacio Basta basta dai Ah no Ah non si può dire No ma l'altro non c'è David Ho sbagliato No 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 Ho sbagliato Ho sbagliato Non è Nel senso Non è così Non è così Ti stai confondendo Vabbè torniamo a Giorgia È un concetto ampio No non è vero No lo sto riposando Ma chi è questa qui? No no È una ragazza Chi è questa ragazza? Chi è questa ragazza? È una ragazza amica di Simone E anche mia Dov'è? Ciao ciao Rubino Tutto bene? Sì tutto bene E te? Bene bene Un po' di mal di gola Riuscirete Chi è questa? Mi fai parlare con la tua ragazza? No Dai saluta Dario Moccia Ma sta bene Ciao Sta dormendo Sta bene? Sì sì sta dormendo Sicuro? Sì Meglio preoccupare No guarda Non vai a vedere sta dormendo La parola È l'accezione Che è bannabile Certo l'accezione L'accezione Natalia qual è la parola che usi qui nella tua vita? Dai ma Rubino ma figa Ma non hai mai bestemmati in una Mirai Oggi due bestemmati Eh benvenuto Due Assurdo Il Samsara l'ha cambiato David Jonathan Vabbè però che cosa ho fatto io scusa Figa forse È vero no Rubino Aspetta fatemi finire il discorso Natalia Capisco che è la figa e che hai la priorità Non funziona lo sguardo con me Piccola Perché mi guardo così? Non funziona con me Perché deve funzionare Sì sì Fammi prenderci un ruolo Sì sì Fammi prenderci un ruolo Per il titolo clickbait Ma mica volevo limonane No infatti Infatti No no Se uno arriva e ti ficca la lingua a bocca Te ce la leva e fai no Ti prego Sono contro Ma mica vado con l'intenzione e dico Guarda quanti spettatori Da limonane davanti a tutti quei spettatori Vabbè anche perché è una frase del genere Che così frase è? Eh la dico, non sono io Io chiacchiero, sono simpatico e faccio il mio Se la ragazza mi interessa Ci rito e ci scherzo Dario Dimmi Mille euro Donati E riveliamo il tuo indirizzo E facciamo un raduno qua sotto stanotte No Ma Gabba che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Eh magari ci portano un po' di gift Per noi Gabba ha un conto in suo speso come anzi due È vero Gabba Gli puoi pagare il telefono che gli hai rotto? Porco dio guarda No Rubi ti devo un 50 David Nooo ma che bestee Rubi Ma la Las Verona cosa pensa di questa bla Pronto? Pronto? Pronto mi senti? Si mi sente? Ci toffano o lo beffa? Si eeeh lo beffa Aaaaaaah Eeeh in accordo con me Posso dici però una roba tipo di Hank positiva? Si ma Jody non puoi parlare di Hank sul canale di Grambaud Ma parla di Brizzy e di Giorgia che si picchiano per la cocaina No non per la cocaina Però Noi non Noi non No ma non è Cioè nel senso sono cose che non ci competono Però posso dici che io lo sapevo già da mesi questa cosa Di Hank? No No vabbè non vogliamo Ma non facciamo Chiudiamo quel discorso No Hank è una bravissima persona Perchè sono state le prime che ho conosciuto E ho amato da matti E vi ringrazio Ma Natalia Ma Natalia vuoi raccontarci la tua esperienza Nello speed date da una mia tua vita? No Beh come mai no? Perchè no? Ah va bene Eh lo so C'hai ragione pure tu Un saluto da Un saluto ad Andrea Chimi L'ho incontrata di persona eh Che sta comprando il Livorno Calcio Un saluto Che sta comprando una L'ho incontrata di persona? Mi ha detto niente Mi ha detto niente Poi ti spieghiamo Ok Che hai detto? Cosa trovo bello nel sesso? Anche che hai detto? Giody va bene No No dai che hai detto Cazzo Non mi toccare Poi Giody mi si ingelosisce Oddio Mamma mia ragazzi Prendiamo le cose con più leggerezza Dannazione Esatto cominciamo Sì ti puoi laureare in due anni Ora Giody fa la proposta a Chiara Vai Vai No Ci dobbiamo conoscere ancora meglio Il pro del naso ma non lo tocco Io faccio la proposta a fede io Attenzione ragazzi Nathalie Maini è un brillocco al dito Chi è che ti fa la proposta? Ma te sei fidanzata? Io a me stessa No vabbè ce sta Ma meglio singolo ragazzi Troppo Non più menti le coglioni No No Dario Dimmi Tu pensi che Cioè secondo te Potrebbe Può esistere Sei stato quasi cercando i costi in un futuro Ma smettila di dire che sei lassato ai principi Hai scritto la mia ex appena sei lasciata Bastardo 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 Jody Bastardo Vediamo 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 Beh io appena rifiuto minacce Comunque Guarda Io non l'assicuro neanche Guarda Vediamo Quindi Guarda qualche messaggio c'è Guarda qualche messaggio c'è Guarda la foto La foto del pene No 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 Non è vero Ma poi il pene piccolo Forza Ascoli Greengate Vabbè Potrebbe anche essere C'è niente di male C'è niente di male Jody seggi Sto commento devi dare un bacio stampo a una della tua live Simone dammi un bacio A una A una A una barra a una Dammi un bacio Ok Wow Va bene Va bene Lo ascolto solo perchè Jody è un grande No 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 Queste cose non si fanno in live Ma perchè non si fanno? Ma sono baci Scusa Aspetta aspetta voglio leggere il genio Darknotes Jody sei un fallito ma sei simpatico Vabbè Sei simpatico Non mi vuoi dire No no Grazie grazie che mi hai dato del fallito Non mi ritengo un fallito però se tu pensi che io sia un fallito e pensi che sia una cosa opinabile Vabbè guarda il lato positivo sei simpatico Ma comunque Chiara Cos'è che ti sembra Non mi vuoi dire